Oggi girandola di incontri per sciogliere gli ultimi nodi in vista dell'imminente riapertura delle scuole. Nel pomeriggio il Comitato Tecnico Scientifico definirà le regole sull'uso delle mascherine, poi in serata la conferenza unificata Stato-Regioni sul nodo dei trasporti pubblici. Si cerca l'accordo sulla capienza dei mezzi. Intanto i presidi chiedono l'autocertificazione per l'ingresso a scuola. Contagi in lieve calo ieri in Italia, 1.365 positivi ma con una netta diminuzione del numero di tamponi eseguiti. Aumentano le terapie intensive, crescono i contagi nel centro-sud. La Campania è la prima regione per numero di nuovi casi. Nel mondo superata quota 25 milioni con gli Stati Uniti oltre quota 6 milioni. Preoccupa l'India con il record di quasi 80 mila contagi giornalieri. Incubo o maltempo sul nord Italia. Frane e allagamenti esondano l'Adige e l'Isarco. Interrotta la circolazione sull'autobrennero. Timori per la piena Verona. Oggi allerta arancione in alto Adige, Veneto e Lazio. Gialla in altre dieci regioni. Lutto cittadino a massa dove si indaga sulla caduta dell'albero che ha causato la morte di due sorelline in un campeggio. Tre morti nell'esplosione di un beliero con 21 migranti a largo di Crotone mentre erano in corso le operazioni di trasbordo. Lampedusa l'hotspot al collasso. Atteso per stasera l'arrivo della prima delle tre navi quarantene inviate dal Viminare. Ma il sindaco Martello continua a minacciare lo sciopero generale dell'isola. Sette e trentuno minuti. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Dunque in primo piano parliamo di scuola perché il 14 settembre torneranno a scuola circa 10 milioni di persone tra insegnanti, studenti e personale. Ma a preoccupare maggiormente è il nodo trasporti. Ne parleranno oggi in giornata i rappresentanti del governo con quelli delle regioni. Facciamo il punto nel servizio. Una conferenza stato-regioni cruciale in vista della riapertura delle scuole. Verrà discusso oggi tra governo e denti locali il nodo trasporti. Uno dei punti più problematici in vista della ripartenza fissata al prossimo 14 settembre. Il protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pronto. Il tema cardine è quello che riguarda la capienza di autobus e treni. Fermo ora al 50-60% e che verrà portata all'80%. Le mascherine resteranno obbligatorie e i controlli verranno aumentati per evitare rischi eccessivi. Gli altri temi sul tavolo non restano quelli del distanziamento di almeno un metro tra studente e studente all'interno delle aule e l'uso dei dispositivi di protezione individuale sul quale la discussione è ancora aperta. Rischi, come hanno ribadito più volte gli scienziati, comunque ci saranno perché torneranno a scuola 10 milioni di persone tra insegnanti, studenti, personale scolastico. Ecco perché la prevenzione e la velocità nel tracciare i nuovi contagi resteranno armi essenziali per affrontare e spegnere sul nascere eventuali focolai. Ieri la Federazione Nazionale degli Ordini e delle Professioni Infermieristiche ha proposto di inviare 9.000 infermieri, uno per ogni plesso scolastico, per verificare la corretta applicazione delle misure anti-covid, una possibile soluzione che verrà valutata dal Ministero della Salute per venire incontro ai presidi che oggi per bocca del Presidente della loro associazione Antonello Giannelli hanno lanciato una proposta per obbiare la mancanza di test sierologici. I ragazzi o i genitori degli studenti minorenni potrebbero sottoscrivere un'autocertificazione come quella distribuita negli aeroporti per dichiarare di non essere venuti in contatto con casi acclarati di Covid-19 o di avere sintomi riconducibili al coronavirus. Il 14 settembre riapre l'anno scolastico, strettamente legato a questa data c'è l'andamento del virus nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore sono state 4 le vittime, 3 di queste in Lombardia, mentre il numero di contagi è stato di 1.365 casi. Vediamo. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quanto gli spostamenti di agosto abbiano pesato sulla diffusione del coronavirus in Italia. Ieri il bollettino si è fermato a 1.365 contagi, 79 in meno di sabato, a fronte di una riduzione di 17.000 tamponi. 4 le vittime, 3 in Lombardia, 1 in Piemonte. La regione con più casi, 270, e la Campania, che intensifica i controlli sui rientri dalle vacanze. Seguono la Lombardia con 235 positivi, Veneto ed Emilia Romagna con 109. E si è registrato un caso anche a Vaux, località della prima vittima in Italia, dove il Capo dello Stato tra due settimane inaugurerà l'anno scolastico. Per consentire una ripresa in sicurezza, la capacità di screening dovrà aumentare drasticamente. Andrea Crisanti, microbiologo artefice della campagna di tamponi di massa nel Veneto, ha consegnato al Comitato Tecnico Scientifico uno studio per poter triplicare il numero di test, arrivando a 300.000 al giorno. In parallelo si deve capire come mantenere i confini aperti, evitando di importare casi dall'estero. In diversi paesi europei la situazione è più grave di quella italiana, e in Francia si sono raggiunte punte di 7.000 nuovi contagi. Per questo, nelle ultime ore, la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha confermato un'interlocuzione in corso con i francesi, per avviare controlli incrociati sui due lati del confine, così come per voli e navi in partenza per la Spagna. Cambiamo argomento, parliamo del maltempo, perché si contano i danni proprio dell'ondata di maltempo, che ha colpito soprattutto il Nord Italia. Lutto cittadino, oggi a Massa, dove nella frazione di Marina sono morte, lo sapete, due sorelline di 3 e 14 anni, schiacciate da un albero che è caduto sulla tenda nel campeggio, nel quale stavano appunto trascorrendo la vacanza. Intanto non ci sono ancora notizie di un uomo scomparso nel Varesotto, ma facciamo il punto nel servizio. Solidarietà espressa dal Premier Conte al Governatore del Veneto Zaia e al Sindaco di Verona Sboarina, è pronta disponibilità per avviare l'istruttoria della richiesta per lo stato d'emergenza. Una misura che sembra inevitabile, dopo la violentissima perturbazione che ieri ha colpito il Nord-Est e che anche oggi continua a minacciare Veneto e Trentino, dove l'allerta resta arancione. Per l'esondazione dell'Isarco, ieri era stata chiusa la ferrovia, mentre l'autostrada del Brennero era rimasta impercorribile in entrambe le direzioni, dopo la tracimazione dell'Adige all'altezza dell'abitato di Egna, subito evacuato, causando lunghe file fino a notte in una domenica di grandi rientri. E mentre l'allerta arancione permane anche per Bolzano, continua a preoccupare il livello dell'Adige a Verona. Il fiume in piena, che trasporta centinaia di tronchi, ha costretto a erigere paratie nella zona del centro storico cittadino, dove il letto del fiume è più basso. Ancora senza esito intanto, in provincia di Varese, le ricerche di un 38enne travolto l'altro ieri da un torrente in piena. E mentre il maltempo si sposta verso sud-est, oggi l'allerta arancione si estende anche a Lazio, mentre altre dieci regioni sono in allerta gialla, è stata aperta un'inchiesta per la tragedia del camping di Marina di Massa, dove due sorelle di 3 e 14 anni sono morte schiacciate da un pioppo di oltre 4 metri, caduto sulla loro tenda. Il tronco dell'albero crollato è apparso marcio all'interno. Il fascicolo aperto della locale procura della Repubblica punta ad accertare eventuali responsabilità dei gestori del camping, per i quali l'accusa potrebbe essere di omicidio colposo. Parliamo adesso dell'emergenza migranti. L'hotspot di Lampedusa è ormai al collasso. Gli abitanti minacciano uno sciopero. Intanto nella notte sono arrivati due incrociatori della Guardia di Finanza e stanno provvedendo in quest'ora al trasferimento di 350 migranti. Vediamo. L'ennesimo sbarco autonomo avvenuto ieri a Largo di Crotone, Calabria, questa volta finito in tragedia. Mentre si svolgevano le operazioni di soccorso, un'imbarcazione con a bordo una ventina di migranti ha preso fuoco. Prima le fiamme, poi l'esplosione, morti almeno in tre, uscionati altri cinque, feriti due finanzieri. L'imbarcazione è affondata, ma il relitto sarà ispezionato dai sub della Guardia Costiera in cerca di eventuali persone rimaste imprigionate. La dinamica non è ancora chiara. Una motovedetta stava rimorchiando la barca quando all'improvviso è avvenuto l'incidente, forse causato da una fuoriuscita di carburante. Situazione che continua ad essere critica dopo l'approdo di altri 400 migranti, anche a Lampedusa, dove il sindaco Totò Martello minaccia lo sciopero generale. Ne discuterà oggi con le categorie produttive. Dopo il primo trasferimento dall'isola di 130 migranti, nelle prossime ore se ne effettuerà un secondo, che ne coinvolgerà altri 220 per cercare di alleggerire nuovamente il sovraffollamento dello spot e della Casa della Fraternità, strutture dove, comunque, nonostante i ricollocamenti, restano oltre 1200 persone. Trasferimenti questi già annunciati dal Governo. In una nota, il Viminali infatti ha espresso la volontà di impiegare nuove navi quarantena. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Ministro Luciano Lamorgese hanno deciso di ricorrere all'utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo. A quanto si apprende, entro mercoledì tutte e tre le navi risulteranno operative. E adesso la politica. Il referendum del prossimo 20 settembre sul taglio del numero dei parlamentari e la riforma della legge elettorale stanno animando il dibattito in queste ore, soprattutto dibattito interno alla maggioranza. Vediamo. Dopo l'ultimatum del segretario PD Nicola Zingaretti sulla riforma della legge elettorale interviene il Presidente della Camera, Roberto Fico. Se c'è, le riesiste la possibilità che vada in aula entro la fine di settembre, afferma Stamani in un'intervista al Corriere della Sera. I tempi prosegue, li decideremo nella capigruppo di mercoledì. Molto dipende anche dall'andamento dei lavori in Commissione Affari Costituzionali, osserva però la terza carica dello Stato. A chiedere correttivi urgenti al taglio dei parlamentari era stato ieri lo stesso Zingaretti, condizionando il sì dei dem al referendum del prossimo 20 e 21 settembre al via libera almeno in una Camera della riforma elettorale, prima dell'Election Day. È un tema del governo, ha rilanciato ieri Zingaretti, cercando di tirare dentro anche il Premier Conte, mai così defilato come in questi giorni dal dibattito politico. Ma le priorità dell'altro azionista di maggioranza sono differenti ed è lo stesso Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a delencarle. Votiamo sì al referendum, poi metteremo mano alla legge elettorale, regolamenti parlamentari, ha ribadito ieri l'esponente di vertice pentastellato. Il Movimento 5 Stelle rispetterà uno degli impegni presi al momento della formazione del governo, garantisce stamani un altro big del movimento, il guardasigilli Alfonso Bonafede, in riferimento alle richieste che arrivano dal Nazareno ed esclude ripercussioni sull'esecutivo Conte. Stiamo lavorando per scrivere una legge elettorale in tempi brevi, aggiunge poi, ma questo non toglie che il sì al taglio dei parlamentari sia sacrosanto. Sul referendum intanto si moltiplicano le voci di dissenso anche nelle file delle opposizioni. Nel centrodestra solo Meloni è graniticamente per il sì, mentre nella Lega le posizioni sono più sfumate. Si smarca invece Forza Italia, fatto così come lo vogliono i grillini, afferma Netto il leader azzurro Silvio Berlusconi, è solo un atto demagogico. Le notizie dall'estero, ancora un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, in ballo c'è l'app TikTok, l'acquisizione da parte statunitense, dopo l'ultimatum di Trump doveva concludersi proprio in questi giorni, ma Pechino si è opposta. Vediamo perché. Nuovo capitolo della guerra fredda versione high-tech tra Pechino e Washington. Dopo la saga di Huawei, bandita dalle reti wireless 5G degli Stati Uniti e non solo, l'ennesimo tassello riguarda l'app TikTok di proprietà cinese. 175 milioni di download negli Stati Uniti, un miliardo nel mondo. Brevi video caricati di massimo 60 secondi, balli, gag, battute, ma quello che c'è dietro è in realtà un mondo che vale miliardi di dollari, tanto che ieri Pechino ha messo il veto sulla vendita delle sue attività agli Stati Uniti. Significa bastoni fra le ruote e i negoziati in corso tra la ByteDance, proprietà di TikTok, e alcune aziende americane interessate all'acquisizione, come i giganti rivali del software e dell'informatica di rete, Microsoft e Oracle. Per l'occasione, il Big D Redmond, fondato da Bill Gates, aveva addirittura avviato i negoziati con il colosso della catena di negozi al dettaglio Walmart. L'acquisizione di TikTok doveva concludersi proprio in questi giorni, secondo la stampa statunitense, varrebbe 30 miliardi di dollari. Acquisizione, peraltro, già travagliata, visto che pochi giorni fa sono arrivate le dimissioni del numero uno di TikTok, ex Disney, Kevin Mayer, solo tre mesi dopo la sua nomina. Decisione presa dopo l'opposizione del presidente Trump alla app cinese, accusata di compromettere la sicurezza nazionale di fare spionaggio, consegnando i dati raccolti al governo cinese. Lo scontro fra Washington e Pechino si è inasprito quando Trump il 6 agosto ha firmato un ordine esecutivo che dava alle aziende americane 45 giorni per concludere gli affari con la ByteDance. La contromossa di Pechino non è tardata, ha inserito l'uso della tecnologia civile nella lista delle tecnologie chiave su cui il governo può applicare restrizioni nell'export e nell'accessione e infatti ieri ha imposto le sue condizioni. La saga continua. E noi restiamo negli Stati Uniti perché resta alta la tensione a Portland dopo l'uccisione di un sostenitore di Trump. I Dem però replicano le parole proprio del presidente e lo accusano di istigare la violenza. Gli Stati Uniti superano i 6 milioni di contagiati da coronavirus ma non è la pandemia di infiammare la campagna elettorale per le presidenziali di novembre piuttosto la questione sicurezza. D'altronde il presidente Trump lo sa bene. Se si parla di Covid i suoi consensi scendono a causa della sua cattiva gestione dell'emergenza mentre il suo cavallo di battaglia legge e ordine la linea dura contro le proteste antirazzismo lo fanno risalire nei sondaggi. E allora alza il tiro e dopo l'ultima vittima ieri a Portland in Oregon su Twitter scrive l'unico modo per fermare la violenza nelle città ad alto crimine gestite dai democratici è attraverso la forza. La gente di Portland vuole legge e ordine i sindaci democratici della sinistra radicale non saranno mai in grado di farlo ha aggiunto. Portland è teatro di proteste quotidiane contro la violenza della polizia sin dalla morte di George Floyd l'afroamericano ucciso per soffocamento sotto il ginocchio di un poliziotto bianco lo scorso maggio. Le manifestazioni sono tornate a infiammarsi con il ferimento di Jacob Blake a Kenosha, Wisconsin poi ieri la morte di un sostenitore del presidente appartenente a un gruppo locale di estrema destra rimasto ucciso in una sparatoria mentre si scontrava con i manifestanti antirazzisti di Black Lives Matter. La notizia ha irritato Trump che da settimane critica il sindaco di Portland Ted Wheeler per la sua pessima gestione dell'ordine perché non fa intervenire la Guardia Nazionale come più volte da lui proposto e come ha fatto a Kenosha dove ha schierato più di mille agenti e dove si recherà martedì prossimo anche se il governatore del Wisconsin ha avvertito che la presenza di Trump in concomitanza con le proteste in corso per il ferimento di Blake non sarebbe opportuna. Dura la replica del sindaco di Portland Trump incoraggia la violenza. E ora in Bielorussia dove non si fermano le proteste contro Alexander Lukashenko anche ieri per la terza domenica consecutiva dopo le contestate elezioni del 9 agosto oltre 100.000 persone sono scese in piazza a Minsk intonando slogan contro Lukashenko che ieri festeggiava il suo 66esimo compleanno. Decine di manifestanti sono stati arrestati. Intanto la Germania ha deciso di convocare l'ambasciatore bielorusso dopo che Minsk ha revocato gli accrediti ai giornalisti dei media stranieri che seguono le proteste antigovernative. E questo era il presidente Lukashenko. E adesso ci spostiamo in Medio Oriente in Libano perché si cerca di trovare una soluzione alla grave crisi in cui è precipitato dopo la devastante esplosione al porto di Beirut del 4 agosto. Esplosione vi ricordiamo che ha provocato oltre 200 vittime e le dimissioni del governo. Oggi nella capitale libanese è attesa la seconda visita del presidente francese Macron ed Hezbollah si dice aperto a discutere il nuovo patto politico proposto dalla Francia mentre il presidente Michel Aoun chiede di dichiarare il Libano uno stato laico. E adesso lo sport con la Formula 1 la Ferrari torna dal Belgio a mani vuote dopo il weekend più nero degli ultimi anni. Già venerdì però si torna in pista a Monza sul circuito di casa. Vediamo com'è andata. Storicamente lasciarsi alle spalle la foresta delle Ardenne da vincitori è molto difficile e la storia si è ripetuta con l'armata rossa ovviamente quella partita da Maranello con la speranza di evitare una grave sconfitta ma quella di Franco Orshaun per la Ferrari è stata una disfatta ancora peggiore non ci consideriamo in crisi la spiegazione del responsabile Mattia Binotto siamo in mezzo alla tempesta una burrasca in cui non si vedono né scialuppe di salvataggio né un raggio di sole fra pochi giorni la carovana della Formula 1 arriva a Monza dove meno di un anno fa vestire di rosso Ferrari voleva dire essere ammirato in tutto il mondo Charles Clare aveva trionfato sul circuito di casa vissando il successo in Belgio ed affermandosi come il talento più cristallino della Formula 1 di quella domenica da incorniciare resta ben poco se non i piacevoli ricordi la competitività di quella vettura rossa si è dissolta e lo si è notato plasticamente nella gara di ieri le altre vetture non soltanto Mercedes e Red Bull hanno fatto passi da gigante sia come velocità pura sia come efficienza aerodinamica e proprio di velocità in rettilineo ci sarà un gran bisogno a Monza dove si superano i 350 orari ma le cifre ci dicono che il ritardo delle unità motrici Ferrari dalla concorrenza è attorno ai 40-50 cavalli davvero troppo per non immaginare un altro fine settimana di bocconi amari per scongiurarlo bisogna assolutamente equipaggiare la SF1000 con un pacchetto motore aerodinamica in grado di riportarla almeno nel gruppone sempre più numeroso delle inseguitrici di Mercedes e Red Bull e allora prima di chiudere c'è un aggiornamento che interessa il maltempo e la viabilità è stata riaperta l'autobrennero in Alto Adige questa è una notizia abbattuta proprio in questo istante dalle agenzie e allora 7.48 minuti il telegiornale finisce qui ora la pubblicità poi torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo particolarmente importanti in queste ore e poi c'è il dibattito che è condotto da Flavia Fratello a tutti voi una buona giornata e se volete ci vediamo domani grazie